Ragazzi allora, buona serata a tutti, buona serata a tutti, mettete mi piace al video prima di ovviamente iniziare a guardarlo, video un po' inusuale domenica sera però va così, siccome l'argomento più gettonato in tutti i post, in tutti i video, in tutte le live, è di fatto questo scambio Lukaku Vlaovic, Lukaku Vlaovic sì, Lukaku Vlaovic no. Allora, i giornalisti vi hanno detto, perché ovviamente bisogna leccare il culo ad Allegri, dato che è uno scambio che vuole fortemente lui, è inutile che Allegri dica per questioni economiche no, poi la società che dica vabbè ci guadagniamo a livello di plus valenze e abbiamo un effetto positivo economico nell'immediato o comunque nei prossimi due anni, due o tre anni, va benissimo, va benissimo. Però è uno scambio che ha richiesto fortemente Allegri, quindi c'è un lecchinaggio nei suoi confronti allucinato. Allora, i giornalisti vi hanno detto che dovesse andare via per 40, 50 milioni o per 30 milioni, comunque la Juve avrebbe un beneficio economico nei prossimi tre anni, in totale di 37 milioni. 37 milioni in tre anni. Parliamo di chissà che cifre. Cifre che sicuramente ti aiuterebbero per, soprattutto da quando la UEFA ti ha sanzionato con altri 10 milioni di euro che potrebbero andarti a pesare se non dovessi rientrare nel bilancio nel prossimo biennio, cioè non dovessi avere un bilancio sostenibile per appunto il fair play finanziario nel prossimo biennio. E vabbè, allora, questi sono discorsi economici e vabbè, ci siamo, ok? Questo è quello che mi dicono quelli che sono a favore di questo scambio qua. Dall'altra parte, se noi guardiamo sotto l'aspetto economico, allora vale più la pena, non voglio tornare su Morata, però vale più la pena scambiarlo con l'Atletico Madrid per Morata. Cioè, dobbiamo dire perché Morata, tra l'altro, che avrebbe se non sbaglio anche lui il decreto crescita, non andrebbe a pesare quanto Lukaku, perché se con Lukaku le cifre che girano sono 8 milioni, 9 milioni netti l'anno, quindi sarebbero più o meno 11-12 milioni lordi. Con Morata, che comunque si fermerebbe sui 4,5 o 5, sarebbero 7 lordi, ok? Per di più ti levi l'ingaggio di Vlaovic, che prende 14 lordi l'anno, 13-14 lordi. E quindi, sotto quell'aspetto, a livello economico conviene più Morata. Se devo essere sincero, tra giocatori con la stessa età, che io Morata non lo rivorrei, perché io vorrei andare l'altro piano, siccome è vendere Vlaovic. Il problema è che non c'è nessuno che te lo compra, a parte appunto il Chelsea, e poi magari vedremo il Bayern Monaco, Real Madrid. Vlaovic, siccome sta temporeggiando per quel, per quell'aspetto là, non perché vuole rimanere alla Juventus, ma perché vuole andare in squadre che giocano la Champions League, anche se secondo me non farà, cioè, al Bayern Monaco per me farà i suoi gol, perché li ha fatti anche Ciupo Motting, però non sarà mai, siccome è questo top player che mi cercano di dipingere. E quindi, sotto questo aspetto, sotto l'aspetto economico, poi però bisogna anche andare a vedere che Lukaku, prendendolo, qua si parla di triennale più uno, triennale più uno, pagando 40 milioni di euro un giocatore di 31 anni, quasi 31 anni, per me è folle, pagarlo 8 milioni, 9 milioni, perché qualcuno mi dice, sì ma il decreto crescita, ok, fermiamoci un attimo sul discorso del decreto crescita e lordo, vi ripeto, il discorso non è tanto il decreto crescita, il lordo, in letto e bla bla bla, il discorso, anzi, in letto conta, perché poi i giocatori che sono qua da più anni di Lukaku si vedono scavalcare da questo qua, quando soprattutto in questi mesi, in questi due anni, anche dai dirigenti pubblicamente si sono sentiti dire che bisognava fare un taglio di età e di ingaggio, e poi si vedono via Vlaovic e dentro uno che ha più anni di lui, che prende di più, capite bene che comunque allora dicono, vabbè, allora se questa è la politica, non raccontatemi frottole, vengo anch'io alla vostra porta, busso e voglio l'aumento, quindi sotto quell'aspetto potrebbe comunque creare anche problemi nello spogliatoio. Sotto l'aspetto economico, io sento da anni, nel presente, dobbiamo rientrare nel bilancio, dai tempi, da quando abbiamo preso Ronaldo, per la questione appunto che dovevamo rincorrere quella spesa folle, ho sempre sentito questa cosa qui, dobbiamo rientrare nel bilancio, dobbiamo fare plus valenza, di qua e di là, e ci siamo indeboliti, pian piano ci siamo indeboliti, ancora di più, non eravamo fortissimi quando è arrivato Ronaldo, ma poi ci siamo ancora di più indeboliti, con la sessione di Cancelo, con la sessione di Spinazzola, con la sessione di Amre Can, ci siamo indeboliti, perché di fatto, rispetto ai giocatori che poi sono venuti, erano più forti. Quindi, a livello prettamente economico, prendere Lukaku, che ti crea, più che altro dando via Vlau, ti crea un effetto positivo nel triennio di 37 milioni, ok, o 42, poi comunque questi 40 milioni, che per carità, poi, l'ammortamento è facile, tra virgolette, da ammortizzare, 40 milioni sono facili. Però, a livello di cash, siamo sempre là al discorso. Fra, che poi non è detto neanche quello, non è detto neanche quello, perché magari fra due anni, Lukaku sarà proprio uno che non ce la fa più, ok, non te lo vogliono comprare neanche per 15 milioni, ed è successo con altri giocatori, anche con lo stesso Higuain, di fatto. Quindi, Higuain era nettamente, ma, quattro livelli sopra Lukaku, a livello di tecnica, di attaccante proprio completo. Cioè, era un attaccante che, a parità di poca personalità in certe partite, e Di Marzio ha riportato che Allegri lo vorrebbe, vorrebbe Lukaku, per tornare a vincere in Italia e in Europa. Questo comporterebbe che Allegri rimanga un altro anno, prima cosa. La seconda cosa, non sei riuscito a vincere la Champions League con Cristiano Ronaldo, anzi hai fatto una figura di merda con l'Ajax, ok? E vuoi vincere la Champions League con un giocatore in Europa mediocre come Lukaku? Con te, che sei tra l'altro anche te mediocre in Europa? Io sinceramente vedo tante incongruenze anche da parte dei giornalisti, vabbè. Questo è l'aspetto economico. L'aspetto economico che è vantaggioso nell'immediato, bla bla bla, che poi ti andrebbe comunque a pesare, siccome è in un futuro, quando dovrai rivenderlo, quando dovrai comunque liberartene, perché non riuscirei più, perché l'età conta. Può essere anche che anche quest'anno non ti faccia, perché comunque non è che Lukaku arrivi da due anni fantasmagorici, no? E ricordiamoci che appunto per un giocatore di quasi 31 anni, 40 milioni di euro di cartellino sono troppi. Cioè l'operazione Vlaovic, che ce la dipingono tutti come bellissima a livello economico, se noi andiamo a vedere, Vlaovic tu l'hai pagato un anno e mezzo fa, e poi arriviamo anche al discorso tecnico, un anno e mezzo fa l'hai pagato 81 milioni di commissioni comprese. Con i bonus che probabilmente non ha raggiunto, sareste arrivato a 91 milioni. Ok? Dopo un anno e mezzo, al di là della plusvalenza che andresti a fare, e quindi rapporti a bilancio, voi non riuscite a capire che la plusvalenza è un effetto positivo immediato, ma poi conta anche il cash, conta la liquidità, e se tu Vlaovic l'hai preso 81 milioni, poi pagabili in 257 esercizi, ma sono 81 milioni, e poi lo rivendi a, cazzo non so, 40 più Lukaku, comunque tu hai 40 cash, quindi ne hai 40 in meno, rispetto a quando hai venduto, comunque hai comprato Vlaovic. C'è poco a fare, la matematica non ha un'opinione ragazzi. E poi, e poi, adesso arriviamo a livello tecnico, Lukaku è più adattabile al gioco di Allegri, sì, ma non mi interessa un cazzo, cioè Allegri rimane un anno, è normale che loro dicono, purtroppo la mentalità della Juve è questa, quindi vabbè, che l'importante è fondamentale tra i tre primi e quattro, quindi, quando tu ti poni già un obiettivo, un obiettivo non puoi creare un progetto, perché bisognava farlo dopo Sarri il progetto, ok? Lo rifarei anche adesso, sinceramente, sicuramente non puoi fare con uno come Allegri, però direi questo, sotto l'aspetto tecnico-tattico, Lukaku sicuramente ti fa qualcosa in più rispetto a Vlaovic con Allegri, però se il problema era ogni gol, ho fatto il post di oggi, preso da Antonio Corsa, che ha fatto un ragionamento giusto, che a me Vlaovic, sapete, non piace per niente, per me è stato sopravvalutatissimo, pompato, ok? Ma il problema, ragazzi, è quello che dicevo quando è stato preso Vlaovic, e qua su YouTube anche mi si veniva a dire Vlaovic con Vlaovic svolteremo, con Vlaovic faremo sfracelli al posto di Morata, e io cos'è che dicevo prima che arrivasse Vlaovic? Ah, che non si, si aveva qualche confusione sulle caratteristiche di Vlaovic, che non sapeva giocare spalle alla porta, invece mi è stato detto che Vlaovic veniva alla Juventus, perché oltre ad essere più freddo di Morata, cosa che poi abbiamo visto, che per me lo è, attenzione, lo è ancora, però poi ha sbagliato qualche gol anche lui di troppo, che sapeva anche fare un lavoro importante spalle alla porta, e questo significa non aver visto il Vlaovic alla Fiorentina, ok? Però al di là di questo, io dicevo, prima che arrivasse Vlaovic alla Juventus, e questo discorso lo faremo nel caso in cui dovesse ufficializzarsi il tutto, ma è giusto parlare anche di queste cose qua prima, che il problema non era Morata, perché non è che quei primi sei mesi della stagione, 21-22, Morata avesse avuto delle partite dove ha sbagliato un casino in gol, l'unica partita che mi ricordo era contro Sassuolo, quando abbiamo perso 2-1 in casa, basta. Le altre partite, Morata ha avuto pochissime palle gole, e vi dicevo che il problema sarebbe stato quello, anche con un finalizzatore puro, come Dusan Vlaovic, anzi, soprattutto con un giocatore come Vlaovic, perché Morata, lavoro di squadra te ne faceva, Vlaovic no? Quindi, sposare e forzare un matrimonio tra Vlaovic e Allegri, è stato controproducente già alla base, quando il sottoscritto lo diceva, ma si prendeva la merda, quindi dopo un anno e mezzo è facile, dire che non andava bene prendere Vlaovic, è facile, perché quando dico le cose vanno dette prima, perché dopo sono tutti bravi, però intanto, prima la merda me la prendo, come sempre, poi, molte volte sbaglio, perché è vero, ma molte volte poi ci prendo anche, però poi, quando uno capisce, prima degli altri, si prende la merda, poi detto questo, Vlaovic non è un bidone, Vlaovic è un giocatore normalissimo, strappompato, sopravvalutato dal contesto italiano in quell'anno e mezzo, in quell'anno e lì, punto, punto, che poi sono stati gli ultimi sei mesi più che altro a farlo valorizzare così, ma va bene, ma se dopo un anno e mezzo siamo ancora qua a dire, che Vlaovic non è l'attaccante giusto per Allegri, e Morata non lo era, e Ken non lo è, e Milik, vabbè, Milik diciamo di sì, però gioca o non gioca, ma parliamo di due giocatori che ha un titolare in questi ultimi due anni con Allegri, quindi Morata e Vlaovic, e che nessuno dei due è un giocatore per Allegri, e diciamo la stessa cosa per, per quanto riguarda la mediana, e Bentancur, e Locatelli, e Paredes, ok, ragazzi, la domanda è sempre quella, ma siete sicuri? che il problema sia, e siano soprattutto i giocatori? Perché poi Lukaku magari ti arriva, magari più, diciamo più sportellate lo fa, con gli avversari, io non sto dicendo il contrario, perché Lukaku sotto questo aspetto, lo conosciamo, è più bravo, spalle alla porta di Vlaovic, al di là appunto di tutti i contesti d'età e quant'altro, ma se voi cercate 20 gol sicuri da Lukaku, da questo Lukaku soprattutto, e se voi pensate che il problema siano i 20 gol che potrebbero portare Lukaku, che non ha portato Vlaovic, come precedenza non ha portato Morata, siete fuori da tutte le strade possibili e inimmaginabili, perché quello non è il problema, perché il problema è sempre il solito, creiamo poco, creiamo poco, e questo problema, ripeto, Siglior Allegri ce l'aveva già ai tempi del Milan, quando Buffa lo criticava pesantemente, con le stesse motivazioni, con la frase abbiamo concesso poco, si è scheletrizzato il reparto offensivo, e così Allegri ha fatto anche con la Juventus, solo che prima, ripeto, era la squadra lentamente più forte, con le giocate individuali più forti, e vinceva in un modo o nell'altro, adesso che dovrebbe dare qualcosa di suo, non si dà niente, non si riceve niente, non si vede niente, ok? Quindi, lo scambio Lukaku-Vlaovic, per me, per me, è insensato, su tutti i piani, Vlaovic io lo venderei, attenzione, Vlaovic io lo venderei, ok? Però siccome ci sono altri modi, per guadagnarci, ok? Non di sicuro con Lukaku, non di sicuro con Lukaku, vi ho citato il discorso di Morata, vi ho citato il discorso di Scouting, perché poi, per carità, è il Chelsea, l'unica squadra che lo vuole è il Chelsea, le altre stanno temporeggiando, per vedere come va la situazione, Mbappé, Sponda Real Madrid, e Kane, e Kane al post, Sponda Bayern Monaco, va benissimo, stanno temporeggiando, anche là, qualche domandina, me la farei però, sul giocatore, e su quest'anno e mezzo, che probabilmente, ha delle responsabilità lui, ma ha delle responsabilità anche chi lo ha allenato, perché, prendere un giocatore del genere, con tutti i limiti tecnici che può avere, e passare da 16 gol in 6 mesi, a 23 gol in un anno e mezzo, capite bene, che la differenza è abissale, un giocatore è pagato 81 milioni di euro, Allegri quanto ha fatto perdere, perché adesso si parla di bilancio positivo con lo scambio Lukaku, con Vlaovic e Lukaku, ma Allegri quanto ha fatto perdere, tra uscita dalla Champions, poi ripeto, Vlaovic è stato strappompato prima, economicamente anche, quindi, non ha solo le colpe Allegri, ma anche il giocatore, ma soprattutto la società che l'ha preso, ha quelle cifre là, secondo me, per una questione più che altro, di colpo di coda, dopo l'addio di Ronaldo, l'estate precedente, ma, oltre all'uscita della Champions, non essere andato, non aver vinto l'Europa League, l'aver svalutato comunque Vlaovic, in un anno e mezzo, ragazzi, qua si parla comunque di patrimonio, della società che ha investito, perché tu volevi l'attaccante comunque, perché magari non volevi per forza Vlaovic, ma ti è andato, in quel momento, l'attaccante più prolifico d'Italia, e anche uno dei più prolifici d'Europa, in quel momento là, e sulla carta, tu l'hai svalutato, tu l'hai svalutato, come hai svalutato altri giocatori, c'è poco a fare, è una cruda verità questa, e quindi, io ripeto, io, sullo scambio Lukaku Vlaovic, vedo solo cose negative, perché poi, non si può, io ripeto, da chi adesso vuole questo scambio qua, io non vorrò sentire, una parola di critica, nei confronti del giocatore, nei confronti di questa scelta, fra due anni, massimo, vi do, due anni massimo, perché se fra due anni massimo, Lukaku, sarà in fase calante, non riuscirà a liberartene, avrà l'ingaggio pesante, e nessuno te lo paga, perché lasciate stare il discorso Arabia Saudita, che non è detto, perché anche là, stiamo vedendo, anche con lo stesso Pogba, e con altri giocatori, che comunque, le condizioni fisiche, contano anche per loro, ok, sono molto, fiscali sul discorso, diciamo, condizioni fisiche del giocatore, attenzione, lì, però, ripeto, se fra due anni, dovesse andare così, io non voglio sentire, niente, niente di niente, perché un anno e mezzo fa, è stata la stessa cosa con Vlaovic, dice la stessa cosa, eppure adesso sono, gli stessi sono i primi, a lamentarsi del rendimento di Vlaovic, quando io dicevo, ragazzi, Vlaovic ha grandi limiti, non è l'attaccante, che pensate voi, e soprattutto, non si può sposare bene con Allegri, con il gioco di Allegri, che gioca a 70 metri a porta, ho usato proprio queste parole qua, 70 metri a porta, è che il problema non era Morata, dicevo già prima, il problema non è Morata, ragazzi, e come tra tutti i limiti che avrà Vlaovic, vedrete, che il problema non sarà Vlaovic, il problema, ci sarebbe stato, qualora Morata, avesse avuto, 4, 5 palle gol nitide a partita, e le avesse sbagliate, e allora dice, cazzo, sì, effettivamente ci manca il finalizzatore, allora cos'è che vuole Allegri? Perché mancava l'attaccante che finalizzasse, adesso non gli manca l'attaccante che crea e fa lavoro per la squadra, non sa neanche lui cosa vuole, ragazzi lo stanno contentando in questi anni, attenzione, lo stanno contentando in tutto e per tutto, con un budget limitato, ma lo stanno contentando, che poi, se noi andiamo a vedere, hanno speso tantissimo di ingaggio, dei giocatori che ha voluto lui, Paredes, Di Maria, anche se hanno fatto solo un anno, però, sono pesati tanto, Paredes, Di Maria, Pogba, Pogba gli hanno fatto un quadriennale, perché Allegri voleva fortemente Paul Pogba, quadriennale da 8 milioni l'anno, ma ci rendiamo conto, ci rendiamo conto 10 lordi, perché è il decreto del crescita anche per lui, però comunque, 10 lordi sono, 40 milioni per un giocatore che era finito, e lo vedevo io, e lo vedeva qualsiasi altro tifoso che non seguiva, così costantemente la Premier League, ma Allegri non l'ha visto, perché qua partiamo di Allegri, non di società, perché è una scelta sua, è una richiesta sua, sua, come lo è Lukaku, come lo è, non Vlauvić direttamente, ma l'attaccante in quel gennaio lì, che voleva assolutamente Vlauvić, e poi voleva l'attaccante, la società per fare appunto sto colpo di coda dopo Ronaldo, ha preso il giocatore che era più prolifico in quel momento là, e gli ha dato, adesso, tieni e arrangiati, e ha fallito miseramente, hanno fallito entrambi, sia Vlauvić, sia Allegri con Vlauvić, che mi dice che, anche se hanno preso Lukaku, con caratteristiche che vuole lui, non sarà la stessa cosa, perché parele, la stessa è la stessa cosa, il centrocampista con le caratteristiche che vuole lui, e ha fallito miseramente, non ha giocato cazzo praticamente, di Maria la stessa cosa, il giocatore fuori classe con le giocate, e ha fatto cagare con lui, perché questo testimonia, che un conto è avere i giocatori pronti, e prendere i giocatori pronti, in un contesto già pronto, e allora, inserisci le qualità individuali, in un contesto già abituato a vincere, già che vince con le giocate individuali, e fanno bene anche loro, ma se tu metti, anche i giocatori migliori al mondo, in un contesto incasinato, perché tu non sai dargli un'idea di calcio, ok, non sai dargli un'organizzazione offensiva, vedrai che anche questi fanno fatica, vedrai che anche questi falliscono miseramente, per colpe loro, ma anche e soprattutto per colpa tua, che sei l'allenatore, che dovresti dare un qualcosa in più, soprattutto in un calcio di adesso, con la qualità che si è abbassata, è un calcio che pretende la mano del allenatore, e che non riesce e non vuoi dare, fine, e poi ripeto, anche sotto l'aspetto economico, lo scambio di Lukaku-Bravoci, poi mi sbaglierò, vabbè, a volte ci ho sbagliato, a volte ci ho preso, molte volte ci ho preso, ma vabbè, mi sbaglierò, vedremo, io comunque anche se mi sbaglio, Lukaku non lo prenderei, comunque mai nella vita, al di là dello scambio, mai nella vita non lo prenderei, mai l'avrei preso neanche a 25 anni Lukaku, perché è un giocatore che ti limita il gioco, in una maniera pesantissima, pesantissima, quindi il calcio dal basso, queste robe qua, se ne vanno a farsi fottere con Lukaku, ve lo dico già, tant'è che conta, non è che faceva chissà che calcio dal basso, sì, partiva, però non è, Simoninzaghi, se ho messo tutto quell'aspetto, fa più un calcio dal basso, perché comunque aveva Zeku, che è più tecnico di Lukaku, e Martinez, che davano più soluzioni lì davanti, rispetto Lukaku, Lukaku ti limita il gioco in una maniera tremenda, perché palla al piede non può giocare, non è tecnicamente forte Lukaku, è un moltone di due metri, che deve lottare e basta, e allora per fargli fare questo lavoro qua, devi fare i lanci lunghi, e il cross, questo è il lavoro che si chiede di fare a Lukaku, se lo prendi, e quindi tutto il resto, se ne va a farci fotte, può esserci ancora quel discorso del pressing, il calcio dal basso, il calcio ragionato, queste cose qua, non ci credo, non ci credo neanche, dovesse non arrivare Lukaku con Allegri, sono parole che abbiamo visto l'anno scorso, però ancora di più con Lukaku, e poi appunto, sul discorso di petto economico, non è detto che fra due anni, poi tirando un attimo le somme, si vede come sono successi in questi anni, che magari l'effetto positivo ce l'avevi nell'immediato, adesso ci troviamo nella merda, perché abbiamo ragionato sul presente, sia con Allegri, sia soprattutto con Allegri diciamo, abbiamo ragionato sul presente, dopo Pirlo abbiamo ragionato sempre sul presente con Allegri, e ci siamo ritrovati in questa situazione qua, perché l'importante è tornare a vincere subito, e l'importante è rientrare economicamente subito, e hai fatto delle operazioni scellerate, come lo sarebbe Vlauci Lukaku, perché sarebbe un'operazione senza senso, da ogni punto, ogni parte che io guardo, questa operazione per me è una cosa, che non sta in cielo né in terra, in una società soprattutto che pensa, che parla da mesi, da anni, di giovanile, perché anche se partirai, come dico, la rivoluzione al prossimo anno, ti ritroverai comunque un Lukaku ingombrante, perché non è un giocatore di 31 anni, che prende 3 milioni, di 4 milioni l'anno, è un giocatore ingombrante, che prende, di 31 anni, che prende, 8-9 milioni l'anno, e devi per forza farlo giocare, anche se è il giovane promettente, se vai a prendere il giovane promettente, perché, da altre parti, non ragionerebbero cos'è, in altre top europee, perché uno, anche se prende 8 milioni l'anno, e fa cagare, è in fase calante, lo mettono in panchina, però la Juventus purtroppo, si ragiona così, e quindi ti condizioni, anche non solo quest'anno, ma anche i prossimi 2-3 anni, con Lukaku, e quindi, la rivoluzione partirebbe, siccome è congiuntoli, dal prossimo anno partirebbe, e partirà sicuramente, ma si inghiozzo, col freno a mano tirato, avendo Lukaku dall'anno primo, vabbè, queste sono le mie considerazioni, su questo scambio qua, ditemi la vostra, sotto nei commenti, io ripeto, farei altro, cercherei un acquirente, anche che magari, mi offra, 60 milioni per Bravo, e non per forza 90, farei poco di plusvalenza, acquisto fallimentale, tutti in sensi, però quantomeno, andrei poi su un giovane, promettente, come ha fatto l'Inter, con Martinez a 25 milioni, come ha fatto il City, con Alvarez a 25 milioni, quindi, se si ha scouting, i colpi si ottengono, il Napoli ha preso qua, Rascayla, il Napoli ha preso, Kim, adesso non voglio tirare, ma anche la Ju, ha preso Vidal, ha preso il primo, Pogba, cioè, lo scouting, ragazzi, quando si parla anche del discorso, è lo United spende, City spende, ragazzi, ricordatevi, che a parte che lì, possono spendere tutti, quindi non paragonate, le squadre della Premier, con le stesse squadre della Premier, è una cosa insensata, è una cosa insensata, ma non vanno i soldi in campo, ragazzi, l'abbiamo visto con Maguire, l'abbiamo visto con Grealish, l'abbiamo visto con altri giocatori, non vanno i soldi in campo, vanno le idee in campo, indipendentemente da quanto, tu vada a spendere per quel giocatore là, o per quel giocatore là, quindi le idee battono sempre i soldi, ricordatevelo, le idee battono sempre, se poi le idee sono mixate ai soldi, ben venga, ma l'allenatore conterrà sempre di più, di quello che si va a spendere, le idee vanno, le idee dell'allenatore conterranno sempre di più, rispetto alle individualità del giocatore, perché le individualità del giocatore, senza idee del mister, non valgono nulla, buonasera a tutti, e buon fine settimana, che non è finito il fine settimana, quindi buon inizio di settimana, ci vediamo domani, ciao ragazzi, ciao a tutti.